Buonasera dalla redazione del Tg della Mobilità. Servizio regolare questa notte per i treni della metro A. Le ultime corse partiranno dai capolinea all'1.30 dopo la mezzanotte. Domani sera invece riprendono i lavori e la chiusura anticipata alle 21, come è ormai consuetudine dalla domenica al giovedì per lasciare spazio ai lavori di rinnovo della linea. E ancora per questa notte l'accesso alle ZTL notturne di centro Testaccio Trastevere e San Lorenzo è libero dal 1 settembre, invece a partire da San Lorenzo e da Trastevere le ZTL torneranno in funzione anche di notte. Infine domani in centro deviate per tutto il giorno le linee bus 51, 75, 85, 87 e 118. Non percorreranno via dei fori imperiali chiusa per la consueta pedonalizzazione festiva. Per il momento è tutto, il Lettigi della mobilità torna domani mattina.